Due le proposte di legge licenziate all'unanimità dalla IV Commissione Consigliare Assetto e Utilizzazione del Territorio e Protezione dell'Ambiente, presieduta dal consigliere Domenico Bevacqua. Si tratta del testo normativo Ricante, modifiche e integrazione alla legge regionale 30 marzo del 95. Al centro dei lavori dell'organismo consigliare, anche la questione a Mianto in Calabria, su cui in uno scambio dialettico con i consiglieri presenti hanno fornito puntuali contributi, Paola Serrano, consigliere comunale in rappresentanza del Comune di Reggio Calabria, Teresa Oranges, dirigente ARP, Cal Raffaele Mauro, direttore generale dell'ASP di Cosenza, e Sandro Giuffrida, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica in rappresentanza dell'ASP di Reggio Calabria. Sul tema è stato ascoltato anche l'assessore regionale alla tutela dell'ambiente, Antonietta Rizzo, che ha richiamato il lavoro svolto e ha fatto il punto sull'attività di mappatura delle zone interessate da Mianto. È stata eseguita e riportata nel piano regionale dell'Amianto, approvato a dicembre 2016, una mappatura georeferenziata che ha fatto il Dipartimento, proprio delle coperture in cemento amianto mediante telerivelamento, dalla quale emerge una quantità di amianto ipotizzata orientativamente intorno alle 200.000 tonnellate, quantitativo di cui però non è noto lo stato di conservazione. Alla Calabria sono stati assegnati circa 43 milioni di euro, risorse che potranno essere utilizzate esclusivamente per gli edifici pubblici, con delle priorità per le scuole pubbliche e per gli ospedali. In merito, il presidente Bevacqua ha espresso apprezzamento per il lavoro finora realizzato, sottolineando come il tema sia di estrema rilevanza per i risvolti di salute pubblica. Si è quindi proceduto alle audizioni in merito alle problematiche relative allo svincolo autostradale di Sante Ophemia da Spromonte. Sul punto sono stati auditi Vincenzo Saccaggia, sindaco del comune di Sante Ophemia, il quale ha fatto un accurato appello non disgiunto da un richiamo alle responsabilità. Infine, ha concluso il presidente della quarta commissione. Abbiamo avuto modo di apprendere dall'assessore alla pianificazione territoriale e urbanistica, Franco Rossi, e dalla coordinatrice di una task force, lo stato dell'arte dei contratti di fiume, introdotti su impulso del presidente del Consiglio regionale Nicola Irto. Alla seduta hanno partecipato anche i consiglieri Giovanni Arruzzolo, Giovanni Nucera e Giuseppe Neri.